amici youtube benvenuti ragazzi continuiamo la carriera adonesi bari arrivati ai quarti di un bari straordinario di un bari stravitoso pissardo intanto via mi sa che gioca titolare contro la roma gioca pissardo ragazzi ma intanto quello che sta facendo peppe sibilli solo c'è anche mattino ragazzi vediamo gioca d'orval colpato d'orval c'è anche a chic c'è chic ragazzi gioca oracchioli prima punta fuori firmino attenzione a roma ma mai il bari alla fine gioca brenno iniziata bari roma quarti di finale di ritorno d'orval bagnez fa un po di turn over il bari mariche tredicesimo rimane in serie a mamma mia ragazzi la traversa bagnez bagnez la porta bagnez tellesh che si torval zaleschi c'è alaba bravo d'orval per recuperare la palla per attenzione moracchioli bell'uomo giuseppe sibilli 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 una simon calcio d'angolo ragazzi il giocatore dell'europa league l'uomo l'uomo c'è due gol da recuperare c'è due gol da recuperare qualificazione in bilico della pari l'uomo dell'uomo a chicco gioco a destra boracchioli palaverra volpato 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 una e simon zaleschi bell'uomo anche lui pronto da andare nel bari occhio la porta volpato bell'uomo fuori gioco vedi al ventesimo sempre 5 a 3 per il bari ancora 0 a 0 partita al san nicola gallo il gallo ci prova il gallo il gallo il gallo brenno il portiere dell'europa league tanto rinnova a dionisi con il bari fino al 2026 volpato calcio d'angolo calcio di punizione un altro anni col bari zaleschi mai raggiunto il traguardo dei quarti di finale il bari e c'è il gol di a war mamma mia assurdo ragazzi ma ma la roma trova un rimpallo con a war che si d'orval la roma con il gol passerebbe d'orval andiamo uscita angolo per il bari eh belotti c'è un muro dove non so la roma aspetta la partita dell'andata colpato oracchioli non ha dato fallo ragazzi non ha dato fallo la selic riparte la roma uscita nicola bellomo pari ha mai perso questa europa league ha perso soltanto con real madrid ma però la roma ma chic orchioli per sibilis sibili alba bravissimo poi zaleschi una bella roma sta difendendo molto bene riesce ad attaccare il pari sta dando tutto quello che ha in questa coppa tellesh che si bellomo a chic moracchioli moracchioli attenzione moracchioli moracchioli fuori pazzesco al trentottesimo sempre una zero per la roma vuol dire war rimpallo non fortunato occhio palla per belotti il gallo 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 brando vicino al 2 a 0 la roma il gallo li sta salvando ragazzi gran partita di chic per sibilli che partita di sibilli 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 peppe sibilli ora ora è il bari e adesso di nuovo a più 2 allora fatta a roma giuseppe sibilli bari che si garantirebbe la prima semifinale europea comunque una competizione dell'europa liga valla per il gallo il gallo brando brando ragazzi eccezionale volpato gran partita del bari gran partita del bari poi bisogna vedere incontra in caso vada in semifinale qualsiasi squadra ragazzi bari vuole arrivare in finale proseguire il sicuramente un bari che vorrà giocare l'europa e la prossimo anno si billi si billi un esimon e fa una grande parata qua migliore fino qui bravo cristante poi attenzione ma che adesso deve fare due guarda per andare supplementari guarda occhio c'è d'orval dall'altro lato d'orval calcio d'angolo mia roma fortunata oggi con le deviazioni al san nicola guarda alaba darbo in mezzo per il gallo stavolta ma ancora deviazione ora alaba alaba bell'uomo colpato si billi si billi ragazzi si billi simon gran partita un cristante perfetto bravo comunque che partita ha giocato il bari ragazzi partita di ritorno del bari assur bari napoli la prossima brenno strepitoso anche fuori gioco bell'uomo telles c'è l'ex cerignola bravo selic buona partita di bravo torrente tanto il bari cambia qualcosa c'è si billi entra all'oriente tra anche magliello al posto di d'orval no facciamo giocare ricci che forse è meglio si bell'uomo gioca a nastri al posto di moracchioli bari cambia qualcosa talisca proprio l'ex roma colpato si billi si billi si billi si billi buona adesso al bari è a più tre 3 a 2 vince il bari bell'uomo più doppietta di si billi gol di nicola bell'uomo passano monaco mi passano bari monaco sport in tottenham e newcastle andiamo chi becca al bari ragazzi insieme in finale monaco beh ragazzi monaco va più che bene al bari 4 a 0 da napoli 1 a 0 con l'empoli oramai comunque il bari salva un milione ragazzi per per la semifinale si va a monte carlo a giocare ragazzi si va a monte carlo ragazzi il bari la porta allora c'è chi gioca il sardo l'andata partia complicata che sicuramente il bari deve vincere con Aliali Singo e Orsolini Sudaco Bella Kun Maita Oriente Ah attenzione poi riparte Singo che vorrebbe tornare a giocare in Italia ci sarebbe proprio il club pugliese vorrebbe per la prossima stagione la bari che si gioca la sua prima semifinale europea oh pissardo si andrà via si vanno dall'ora a bari camera orsolini dovrebbe tornare anche lui a giocare in Italia pissardo calcio d'angolo ritorna al San Nicola bari 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 sicura di giocare la laguna la laguna ai da riparte l'oriente attenzione alla bari mamma mia poi eeeh poi Singo bravo e anche questa colmona cosa era una partita non facile per il per il bari andate il ritorno Ibanez Sudaco Belakun ragazzi secondo me il bari ha buttato fuori due squadre importanti come Roma e Real Madrid secondo me Sibilli gran partita di Sibilli con Sibilli ragazzi quando è tornata a Bari già l'anno scorso in Coppa Italia l'uomo l'oriente Sibilli Orsolini riparte la Monaco siamo al sedicesimo c'è Mario comunque il Bari fino a qui ha creato pressione Sardo e Bagnac Ricci Maita l'oriente è bello in mezzo per Beppe Sibilli poi Roberto Firmino 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 fuori super Bari ragazzi è un super Bari Fattarama che sa Florentino comunque attenzione Belagunna 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 e poi salta Pissardo 1-0 per il Monaco e in questo momento il Monaco ragazzi ha un gol di vantaggio sul Bari il Bari comunque ha fatto il possibile ragazzi per magari forse con Brenno bravo Orsolini gran partita bravo Florentino che partita è il Bari ragazzi che ci arriva con le energie corte già nella partita contro la Roma Belagun Pissardo bravo comunque a chiudere ma non è chiuso bene lo spazio su cartiere cio Mario Orsolini Bissardo bravo al trentesimo comunque il Bari soffrendo Belagun 2-0 e adesso il Bari soffre perché devi recuperare due gol non è facile l'oriente provate con Orsolini ma bella per Sibilli rete Sibilli mamma mia l'oriente ancora Peppe Sibilli un'arma in più per questo Bari Monaco 2-2 Bari Bari Sibilli Sibilli un altro un altro Bari dopo il gol dopo il gol l'oriente e la lì gran recupero poi Orsolini riparte riparte il Monaco con Orsolini Orsolini Bissardo Bartericci occhio al Bari portare con Firmino palla per Sibilli 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 Magassa non è finita poi Firmino 2 pari il Bari non molla mai ragazzi anche in semifinale una squadra straordinaria quella di Dionisi non molla un colpo la squadra di Dionisi Roberto Firmino Ibagnaz Ricci Oriente ha partito la sua ha munito l'alli Merica Laporte bell'uomo occhio l'Oriente punta l'Oriente 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 in mezzo per Volpato Volpato 3 a 2 pari la rimonta la squadra di Dionisi portandosi a più uno sul Monaco comunque Belagun ha fatto due gol il Bari merita la finale come ha giocato merita la finale di Europa League 0 a 0 spero di non darvi tutto inglese ma con Bari Gakpo è il problema del Monaco mi tira fuori questi giocatori a porta bravo c'è ancora la partita al San Nicola di Bari da giocare la prossima settimana Gakpo che sì gran partita bravo su Gakpo in questo momento il Bari colpato aia attenzione c'è Mario per la Bola con Bola con Gakpo Gakpo Pissardo incredibile portiere del Bari gran partita di Pissardo Zienischi Banias colpato gran gol colpato poi arriva Guattara poi Magassà su Sibilli Gakpo bella 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 cunna poi Banias arriva comunque Gakpo poi Ricci Sibilli Firmino Singo e adesso Monaco che si sta difendendo con le proprie mani cercarla almeno di pareggiare e poi giocarti al San Nicola è un altro tipo di partita bella scatta bella 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 pissardo bella partita ma adesso il Monaco cercare di giocare meglio l'Oriente bella per l'Oriente attenzione c'è Sibilli gran palla per Sibilli ma ci arriva Quattara era lì mamma mia passa poi attenzione Ricci non ci arriva palla per Belagun l'Oriente Maita bella per l'attenzione Giuseppe Sibilli 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 il miglior marcatore dell'Europa League Giuseppe Sibilli è il Bari ragazzi adesso la Sonia alla finale c'è una partita di ritorno da giocare ma di per certo è un Monaco che è morto ragazzi comunque il Bari allora fuori dentro Brenno dentro Tellesh fuori l'Oriente quindi Gioca Tellesh alto e gioca anche a Schick cambia i due esterni il Bari per mettere un po' più di sono Ricci Ricci che partita di Ricci poi Maita mamma mia che brutta la palla del Monaco qua fuori l'Oriente Brenno e yes taglia Tellesh appena entrato Tellesh 5 a 2 e adesso una maledizione più 3 più 3 del Bari si ma ragazzi il Monaco non c'è praticamente più al Bari ha fatto una partita Tejes Sibili Volpato guatterà a capò occhio per la con per la con per la con belagun 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 va bene ci sta 5 a 3 va bene più 2 va bene il Monaco un golo deve fare occhio perché il Bari ha cambiato i due esterni eh chic 5 a 3 e ritorno da giocare 2-0 Newcastle Newcastle pressione si giochi la finale con Newcastle e la pari 2-2 con la salernitana ritorno e la ragazzi ci andiamo a giocare Allo stadio San Nicolà Ritorno Bari Contro Monaco Monaco deve recuperare due gol Per andare In finale Vediamo chi vince Ma il Monaco sicuramente farà di tutto Vince questa partita Bella con Bella con Fuori dai pali Occhio al Bari Occasione per Beppe Sibilli Beppe Beppe C'è il gol Firmino Sibilli Firmino Portano il Bari in finale Mamma mia ragazzi Ho come La sensazione non si dormirà Bari stasera Belagoon Brenno Prossimo episodio racconteremo proprio la finale In caso di finale Bisogna vedere però ragazzi Chi beccherà Credo Newcastle E comunque ragazzi Vai a beccare Ah lunga Vai a beccare comunque Una squadra Volpato Volpato Bari Ha giocato Una finale Di Europa League Di Europa League Strapitosa E andrà a casa E andrà a casa Perché il Bari si giocherà la prima Finale Golovine Decisiva Golovine Golovine Brenno Come giocare contro un muro Brenno Che azione Brenno Preso tutto E' stato il miglior portiere della Serie A Della Della Europa League Il Bari E' in finale Di UEFA Europa League Finale europea Per il Bari Che adesso inizia a crederci Nella vittoria dell'Europa League Come l'Atalanta Il mio ragazzi E' arrivato a Bari con un solo obiettivo Quello di vincere L'Europa League Sì con Newcastle Eh Newcastle E' una squadra Bella tosta Una partita Importante 2-0 Vince il Bari Bari decimo Ragazzi il Bari Ha fatto una campionata assurdo Addirittura decimo In classifica Ragazzi il Bari Dovrebbe Dovrebbe tenere questo Dovrebbe tenere questo Il Milan perde Perde anche la Juve Si gioca Si gioca da Ion Cruyff Arena Alla finale Andiamola a giocare Questa finale Newcastle E' una bella squadra Newcastle Ma il Bari Ragazzi ha meritato Di giocare Questa finale Il Bari Il Bari Può alzare Al cielo L'Europa League Andrà poi a spendere i soldi Sul mercato E allora Dalla Ion Cruyff Arena Per Bari Contro Newcastle Viati 8000 Da Bari Dalla Puglia La Coppa Vediamo chi si raggiudicherà Roy Mares Alex Garcia Ragazzi Il Bari Ha battuto Una delle società Più forti Virmino Maita Maita 1-0 Bari Maita Ancora Maita Subito Il Bari In vantaggio E' una Bolgia Adesso Di un Cruyff Arena Perché il Bari Vuole la sua Prima Europa League Nella storia Eviazione Anche Però E' due gol Per Maita Uno che viene Asci Ale Garcia Subito Bari Aggressivo Un po' come l'Atalanta Arcos Llorente In mezzo I Bognets Isac Alla pera Sibilli Passa uno Sibilli Peppe Sibilli Peppe Sibilli 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 2-0 Pari Sette minuti Il Bari E' un attaccio su due Ma che squadra Che è il Bari Che squadra Boom Boom Jorente Arcos Garcia Sibilli Archeo Doyle Gordon In mezzo In mezzo Isac Brenno Poi Palo Poi Bellomo Falli in attacco Ma Brenno Superlativo In una finale Volpato Eh ragazzi Volpato Sibilli Pope Calcio d'angolo Bari Super In 12 minuti Bellomo Da Barese Giocando la sua prima finale Isac Volpato Poi che si Gordon Che si Firmino Bruno Che è Fase un po' Confusa adesso Brenno Fa difficoltà Newcastle Bello Bellomo Adore Bravo Gordon 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 Meno uno Meno uno Ragazzi Meno uno Non ci sta Prima Rola del Bari Bisogna Perdere la concentrazione Ragazzi Nel Bari Questo lo sa Volpato Volpato Pope Potman Ragazzi Il Bari Il Bari Non deve perdere Concentrazione Partita Gordon Tutti in avanti La porta Volpato Sibilli Sibilli Bella per Volpato 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 Pope Bravo Pope Ma Volpato Ragazzi Ne fa di più Isac Isac Max Garcia America La porta Peppino Volpato Firmino 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 3 a 1 Andiamo io che sto registrando Farì 3 a 1 Più che solo 1 Bell'uomo Maite Oriente Sibilli 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 Pope La para Sibilli Giaco Real Madrid Bell'uomo Dentro Bella per Sibilli 4 a 1 Bariscio In Olanda Con doppietta Di Sibilli E' bello Vedere Questo Bari Guardate Tifosi Arrivati Dalla Puglia Una squadra Pugliese Non è mai Andata In una Finale Di Europa League Il Bari C'è andato E adesso Deve alzare al cielo Tellesh Gran primo tempo Vedete il Bari Isaac Brenno Mamma mia I'm Il portiere Dell'Europa League Brenno Oh Brenno Mamma mia Gemma E' T'ha Aperto Doyle Oh Oh L'Ori Guardate il Bari Come palleggio anche Gol del Bari 5-1 L'Oriente Ragazzi Ragazzi il Bari Il prossimo anno farà la Champions League Quello è sicuro che farà la Champions E alza il suo primo Gol 5-2 Gordon Fato doppietta Gordon Va di recuperare 3 gol Uh Attenzione Proprio il Bari Il Bari Nicola Bellomo Due in barriera Bellomo Ai Vita Vediamo come sfruttano in contropiede Solo 20 minuti di attenzione Bravo Brenno Oriente Sibiglia assurdo Mamma mia Brenno Mamma mia Brenno Ragazzi il migliore Palla che finisce in calcio d'angolo Ultimi 5 minuti che saranno poco più di un'opportunità Oh Che parata L'86 Calcio d'angolo Che non produce effetti Bellomo Ottimo Quanta più No Allora è finita ragazzi Eh c'è il gol Ma oramai è finita Gordon Ha fatto tripletta Gordon Tre gol di Gordon Il Bari Vince l'Europa League E gli sta bene questa prima Europa League del Bari Eole Campioni Campioni Ragazzi in Puglia Stanotte non si dorme Fuochi d'artificio sul lungomare Di Bari Perché il Bari Alza al cielo la sua prima Europa League Facendo una Un'Europa League Battendo i più forti Quelli del Real E va ad alzarla un barese doc Nicola Bellomo Lui Che è di Bari vecchia Lui Che con il suo club La alza al cielo Vai Nicola Alzala Questa Europa League Coppa Italia L'anno scorso Europa League Quest'anno E il Bari E campione Vince l'Europa League Il prossimo anno ragazzi Bisogna lavorare più sul bilancio Allora Sarà il Bari dell'anno prossimo Intanto Si alza questa Europa League Si fa festa Perché il Bari Vince l'Europa League Guardate Bellomo Ragazzi Impazzito Grande partita Anche di Brenno Grande Europa League Di Brenno Vediamo se il Bari Magari Alzerà la seconda Europa League Il prossimo anno Sarà Champions Insomma La Champions È un po' più difficile Perché comunque Ci sono squadre Un po' più difficile Ragazzi Vediamo A chiudere questo episodio Ci vediamo Per il prossimo E' un po' più difficile E' un po' più difficile E' un po' più difficile